Amici 22, Mattia protesta per l'uscita di tutti lo pensano ma nessuno lo dice. Il tre gradi appuntamento serale con amici si è concluso con l'eliminazione di Samu, il ballerino ha perso lo spareggio contro Wax e ha dovuto lasciare il programma. Dopo che Maria De Filippi ha comunicato il nome dell'allievo che doveva abbandonare la scuola. Mattia si è messo a piangere e ha protestato dicendo apertamente che il compagno non meritava questo verdetto e che ad uscire sarebbe dovuto essere qualcun altro. Al termine della puntata di Amici 22 di sabato 1 aprile, i telespettatori hanno scoperto il nome del quinto allievo eliminato dal serale. Dopo NDG, Megan, Gianmarco e Piccolo G, a lasciare la scuola è stato uno dei ballerini più amati dal pubblico. Un ragazzo che dallo scorso settembre ha conquistato insegnanti e fan a suon di coreografie hip-up e non solo. La giuria composta da Michele Bravi, Giuseppe Gioffre e Cristiano Malgioglio, ha preferito Wax Asanu, il cantante di Arisa. Infatti, è stato salvato nonostante molti, compreso lui stesso, pensavano che non ce l'avrebbe fatta abbattere il compagno di classe. Questo verdetto, però, ha creato parecchio chiacchiericcio sia sui social network che all'interno della casetta, dove qualcuno ha palesato il suo malcontento per come è andato a finire il ballottaggio della terza serata. Esci Tussanu, con queste poche parole la conduttrice di Amici ha ufficializzato l'eliminazione del ballerino dal serale. Il ragazzo si è detto contento del percorso fatto, della sua crescita professionale e delle tante porte che gli si stanno aprendo grazie all'esperienza nella scuola. Dopodiché ha ringraziato i compagni con i quali ha convissuto per circa sette mesi. Mentre tutti abbracciavano il siciliano, Mattia è scoppiato a piangere e si è allontanato dal gruppo. Il danzatore di latino americano non ha nascosto la rabbia che stava provando in quel momento. Anche perché secondo lui Samu doveva rimanere in gara a lungo. Tu non meritavi di uscire. Lo penso io ma lo pensano tutti, solo che nessuno lo dice. Ha commentato Zenzola dall'altro lato della stanza. Non me lo sarei mai aspettato, non è giusto, ha proseguito l'allievo mentre le telecamere indugiavano sul vis di Wax. Salvato dalla giuria proprio discapito di Samu? Il fatto che Samu sia stato eliminato alla terza puntata, non è piaciuto né a Mattia Zenzola, che ha lasciato intendere che secondo lui a lasciare la scuola doveva essere Wax per una questione di merito, ne ha molti spettatori di amici. Sabato primo gradi aprile, infatti sui social network sono stati pubblicati tantissimi commenti di protesta per il verdetto che ha condannato il bravo ballerino di Papp. Uno dei migliori della ventiduesima edizione del talent show. I fan, però, non possono nulla di fronte alle preferenze che esprimono i tre giudici del programma, fino alla finalissima. Infatti, saranno solo bravi, Geoffrey e Malgioglio a decidere chi può andare avanti nella gara e chi deve tornare a casa. Alla registrazione prevista per giovedì prossimo, dunque, parteciperanno dieci talenti, Arisa e Todaro hanno una loro squadra ancora al gran completo, Wax. Federica, Alessio e Mattia, Serbi e Celentano possono puntare su tre allunni, Ramona. Isobe Learon, e lo stesso vale per Cuccarini e Di Magnuello, Maddalena, Angelina e Cricca. Salvo colpi di scena, anche nella quarta puntata serale ci sarà una sola eliminazione, a fine riprese si svolgerà un ballottaggio a tre e i giurati del cast avranno la possibilità di salvare immediatamente uno dei ragazzi a rischio. Grazie.